Quasi 600.000 euro per la manutenzione dell'alveo del torrente nei pressi del ponte di Via Piacenza a Vochera, 250.000 per la sistemazione del rio Crenna a Bagnaria e altri 470.000 per la manutenzione dell'alveo dello Staffora a Godiasco, Salice Terme. Ammontano a quasi 1,4 milioni i finanziamenti regionali destinati alla manutenzione del torrente Staffora e di alcuni affluenti in vista della stagione autunnale. Il ponte di Via Piacenza a Vochera, come noto peraltro, era stato causa di pesanti disagi alla viabilità con la chiusura al traffico in occasione di una piena del torrente che si temeva potesse mettere a rischio la stabilità del viadotto. I lavori di manutenzione straordinaria nel tratto di Godiasco, Salice Terme vanno ad aggiungersi a quelli del tratto a valle del ponte di Salice a Riva Nazano Terme, dove erano già stati finanziati nei mesi scorsi diversi interventi di difesa e pulizia idraulica nel territorio di Bagnaria. È stata invece finanziata la manutenzione di un affluente in rio Crenna, nei pressi dell'abitato di Ponte Crenna. In zona è atteso a breve anche l'avvio dei lavori di rifacimento della Greenway, travolta da una piena la scorsa primavera. Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, la pista ciclabile potrebbe tornare transitabile, seppur in via provvisoria, in attesa dell'assestamento e dell'asfaltatura già nelle prossime settimane.